Grazie Presidente Lamberts e grazie Presidente Tagliani perché con i vostri due discorsi introduttivi e anche appassionati ci date l'occasione qui al Comitato delle Regioni di una riflessione alta ma anche di un impegno di responsabilità che ci sentiamo tutta come amministratori locali delle città e delle Regioni, convinti che come diceva Carl Heinz senza l'Unione Europea difficilmente nelle città e nelle Regioni noi potremmo realizzare e fare molte cose che servono a dare risposte ai bisogni materiali della nostra comunità sul versante del lavoro, sul versante della gestione dei fenomeni migratori, sull'istruzione e la formazione, sulla qualità ambientale e la qualità delle nostre città ma al tempo stesso forse mai come in questo tempo l'Europa per essere sostenuta, difesa, riformata ha bisogno anche dell'azione delle autorità locali e regionali e senza le città e le Regioni probabilmente l'Europa viene esposta anche a dei rischi sul suo futuro. A me e a noi fa molto paura quando sentiamo all'interno dei nostri Paesi esponenti politici, forze politiche, forze di governo che dicono che la finalità principale è quella di abbattere l'Europa e di abbatterne non tanto e non solo le sue istituzioni, ma il progetto che è dentro quelle istituzioni è cresciuto. Ecco, io credo che noi non dobbiamo sottovalutare le paure anche dei cittadini perché nelle paure dei cittadini si sono annidati i germi dei populismi e dei sovranismi e sono nelle paure dei cittadini che si sono annidate le ragioni del venir meno della fiducia verso tutte le istituzioni, ma in modo particolare anche verso le istituzioni europee. E allora dobbiamo ripartire da quello che ci avete proposto e lo dobbiamo fare anche con un'alleanza di lavoro che è un'alleanza di contenuti, ma è anche un'alleanza di metodo e convintamente lo dobbiamo fare, dobbiamo fare sui pilastri fondamentali, mai come questa epoca per la prima volta vediamo mettere in discussione i pilastri della democrazia anche all'interno di alcuni paesi europei e mai come in questa epoca vediamo il venir meno di quello che grazie anche all'Europa abbiamo conquistato. Questo è la spazio di mondo dove insieme alle libertà, come è stato ricordato dal Presidente Tagliani, è anche la spazio del mondo dove abbiamo lavorato per la libertà e per l'uguaglianza dei cittadini, costruendo sistemi di welfare, costruendo il diritto allo studio e alla formazione permanente, costruendo opportunità pubbliche per bisogni e diritti individuali, sociali e civili. E allora da queste contraddizioni dobbiamo essere in grado di ripartire e non possiamo che farlo con le istituzioni che più hanno la rappresentanza diretta delle nostre comunità, che sono il Parlamento europeo perché eletto direttamente dai cittadini e sono i comuni e le regioni che ogni giorno lavorano a far sì che questo elemento di fiducia venga mantenuto. E allora il dialogo non è solo un modo per raccontare la bontà dell'Europa, forse non basta più questo, siamo oltre questo livello, ma per raccontare come è possibile riannodare un filo di fiducia e di speranza anche sul nostro continente, perché attraverso l'Europa possiamo garantire più investimenti pubblici e più investimenti pubblici di qualità, possiamo trovare le risposte della solidarietà, possiamo affrontare i nodi più difficili e complessi che sono quelli del lavoro e quella della convivenza anche nella gestione dei fenomeni migratori, cioè possiamo trovare anche quelle ragioni sociali, non solo politiche che oggi le nostre comunità locali ci pongono. E allora le proposte che Carlinz ha fatto anche a nome del Comitato delle Regioni, alcune concrete, difendere la politica di coesione significa difendere un'idea fondamentale dell'Europa, che l'Europa vive grazie all'integrazione, grazie alla solidarietà, grazie al fatto che non lascia nessuno indietro e aiuta chi è indietro a farcela, sia che si tratti di regioni e di città, sia che si tratti di singoli cittadini. E qui abbiamo esempi concreti, ogni qualvolta spendiamo un euro del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, un euro del Fondo Sociale Europeo, stiamo aiutando la solidarietà e stiamo aiutando a superare i ritardi e stiamo aiutando chi meno ce la fa a farcela ancora di più. E allora questi mesi che ci separano anche al voto delle elezioni europee saranno mesi di un lavoro importante come istituzioni e non solo come forze politiche, perché mai come questa volta non ci contrapporremo solo su che cosa è il percorso per riformare l'Europa, su qual è la rotta che dobbiamo percorrere, ma come diceva Carl Hines anche sul metodo che ci dobbiamo dare e forse per la prima volta in 70 anni, almeno la prima volta in 60 anni dalla storia delle istituzioni europee, che ci troviamo di fronte ad un confronto dove qualcuno pensa di non condividere più la casa comune. E allora chi pensa che invece la casa comune, anche se è una casa che ha bisogno di essere restaurata, una casa che ha bisogno anche un po' di metterci aria fresca, di aprire le finestre, di essere più disponibile all'ascolto, di cambiare l'arredamento di questa casa comune, però della casa comune abbiamo ancora molto bisogno e hanno molto bisogno in modo particolare le giovani generazioni. Io appartengo a una generazione che per la prima volta quando si è iscritta all'università ha avuto la possibilità di fare l'Erasmus, oggi quei ragazzi lo danno per scontato, così come danno per scontato la democrazia, invece sappiamo, confrontandoci con il resto del mondo e chiudo, che non è scontata né la democrazia né i diritti fondamentali che la casa comune ci ha dato. Allora questo patto, e lo dico a nome del gruppo dei socialisti, dove teniamo insieme la libertà e l'uguaglianza e la immaginiamo ripensata alle sfide del XXI secolo che sono diverse da quelle dei padri fondatori, molto diverse, secondo me alcune sono anche più facili di quelle che avevano i padri fondatori, altre sono più difficili e complesse e potremo vincere se però difendiamo insieme la casa comune.